Ciao a tutti! Nuovo video sulle scoperte del periodo, diverse cose dal cibo, capelli, make-up, serie tv, quindi ragazzi cominciamo subito! Partiamo quindi da questo prodotto di Alchemilla che per me è gioia allo stato puro, di cosa parliamo? Di uno scrub per il cuoio capelluto, ragazzi, sì, avete capito bene. So che ci sono alcuni saloni che ti fanno lo scrub al cuoio capelluto, ti mostrano anche con una telecamera il prima e il dopo, proprio per farti vedere quanti impurità c'erano in realtà sul cuoio capelluto e come poi si sia liberato. Io purtroppo però in giorno non ho nessun salone che fai questa cosa e mi è sempre dispiaciuto molto perché comunque era una cosa che avrei avuto piacere nel fare e sono rimasta troppo felice quando da Alchemilla hanno creato questo che appunto è lo scrub per il cuoio capelluto. Questa è la consistenza, all'interno ha dei micro micro granuli, sono veramente piccoli, quindi è una cosa delicata, anche se avete la cute magari molto sensibile, molto delicata, non è assolutamente un prodotto aggressivo. E ha un profumo fantastico, tant'è che quando lo utilizzo poi mi rimane anche questa bella profumazione, a parte la sensazione che io avverto sui capelli che è una cosa indescrivibile. Non so se avete presente quando andate a fare la pulizia ai denti, che dopo avete quella bella sensazione proprio di pulizia igiene profonda. Quando io lo utilizzo sento la stessa cosa ma sulla cute. Se vi può interessare ragazzi come sempre nel box informazioni vi lascio il link a tutti i prodotti. Ragazzi vi voglio leggere quella che è la descrizione del prodotto perché oltre a raccontarvi quella che è la mia esperienza, le mie sensazioni con l'utilizzo e tutto quanto, vi voglio dare anche delle informazioni un po' più tecniche. Questo rimuove gli accumuli di impurità come polvere, pelle morta, residui di shampoo e arricchito con estratti vegetali biologici di lino, il lampone, il limone, il cocco, il ribes nero, il mirtillo. Nutre in profondità il cuoio capelluto unitamente all'estratto di mango e passiflora dalle proprietà protettive e lenitive. Quindi effettua praticamente lo scrub ma nel tempo stesso non va a seccare la cute bensì la nutre. I microgranuli in formula e l'acido glicolico garantiscono, dove sono mi sono persa, un'esfoliazione meccanica ed enzimatica. Liberando i pori, facilitando la corretta ossigenazione dei bulbi e favorendo la nascita dei capelli sani e robusti. Il pantenolo contenuto in formula permette al capello di raggiungere il suo corretto grado di umidità, prevenendo disidratazione e fragilità unitamente al mentolo dalle proprietà rinforzanti e rinvigorenti. Quindi ragazzi è una bomba, ma come si usa? Questo dopo lo shampoo, quindi con i capelli umidi, ne applicate la quantità necessaria e iniziate a massaggiare con i polpastrelli. Dopo averlo massaggiato vi basta tenerlo in posa per 5 minuti e risciacquare. Ovviamente non è un prodotto che io utilizzo ad ogni shampoo, anche perché essendo in estate io ragazzi faccio dei lavaggi super super frequenti. Lo utilizzo solo quando non avverto la necessità, non so se vi capita mai di sentire la cute un po' pesante, eccetera, allora lo utilizzo. Ragazzi sono estremamente fomentata da questo prodotto, perché comunque lo scrub è una cosa che io effetto sul corpo, sulla pelle del viso, e quindi poterlo fare anche sulla cute per me è una cosa meravigliosa. Anche perché come vi ho letto aiuta i capelli anche a crescere più robusti, più sani, più lucenti. Passiamo poi al make up e non posso non partire da questo, che è della linea Vamp, l'Explosive Lashes e il nuovo mascara di Pupa. Ragazzi io credo di non aver mai ricevuto così tante richieste di recensione come per questo prodotto, quindi eccomi qui. Adesso vi mostro lo scovolino, vedete è uno scovolino bello, bello cicciotto. Questo è un mascara che regala immediatamente tantissimo volume alle ciglia. Mi sono avvicinata perché questo è il mascara che io ho utilizzato anche oggi ed è una sola passata, si riesce a notare anche se dietro ho questo eyeliner molto molto importante. È un mascara che a me piace molto, vedete, cioè fa proprio delle bellissime ciglia. Quindi ragazzi per me questa è stata una bella scoperta, è un prodotto che io promuovo, mi piace molto. Lo scovolino comunque vi aiuta a distribuirlo bene perché ha secondo me la giusta densità di dentini, la giusta quantità di dentini che quindi lo vanno proprio a distribuire mentre pettinano le ciglia. È un prodotto che sicuramente consiglio a chi come me è un amante del volume smisurato, addirittura qui la descrizione proprio sul prodotto è volume spudorato ciglia esplosive, perché effettivamente voi appena lo applicate fate wow, cioè veramente vedete una differenza incredibile. Promosso anche per la durata perché dura tranquillamente da mattina a sera senza sgretolarsi, non è waterproof ma anche in queste giornate dove fa più caldo assolutamente io non ho avuto colature di prodotto quindi non si scioglie perché ci sono alcuni mascara che non so magari vai a toccarti un attimino perché può capitare un pruritino, non so se vi è mai successo e basta veramente il calore delle tita a farli sciogliere un pochino e allora poi vi portate il mascara ovunque, non so se vi è mai successo. Io ho avuto delle brutte esperienze con dei mascara in questo senso e quindi è una cosa che io tengo sempre in considerazione, quindi non è waterproof però è molto resistente e dura tranquillamente tutto il giorno anche in queste giornate più calde. Quindi ragazzi questo è il mascara che io sto utilizzando quotidianamente perché mi piace molto l'effetto che riesce a donare alle mie ciglia, per me è assolutamente un prodotto promosso, è stata una bella scoperta. Altra scoperta del periodo ragazzi, anche questo è amore puro, è l'eyeliner di Dior, i nuovi eyeliner penna. Sapete che sono usciti con questi fantastici eyeliner, ce ne sono di tutti i colori, sono veramente stupendi e quello che io sto utilizzando principalmente è quello nero, sapete io sono un amante dell'eyeliner, era veramente da tantissimo tempo che non riuscivo a trovare un eyeliner in penna con queste qualità, con queste caratteristiche. Questa è la punta dell'eyeliner, scrive benissimo, è un nero super intenso, non avete bisogno di ripassare 30 volte sopra per ottenere un bel nero intenso perché vedete che è subito super nero, potete fare delle linee più sottili, delle linee più spesse, quindi la punta vi permette proprio di giocare molto. E questo lo sto utilizzando da quando ce l'ho e scrive, avete visto, appena tocca la pelle, scrive immediatamente, è super preciso, super intenso. Poi ragazzi è waterproof, quindi può anche lacrimarvi l'occhio, la codina rimane lì, potete anche magari passare il dito perché sempre può capitare il pruritino, e a me capitano spesso perché comunque sono un soggetto allergico, quindi mi tocco parecchio il viso, per questo sto così attenta alla resistenza dei prodotti. E questo eyeliner veramente è super super resistente, quindi voi lo applicate la mattina arrivata alla sera e l'eyeliner è ancora lì perfetto finché non lo andate voi poi a struccare con lo struccante. Io sono rimasta davvero impressionata dalla qualità di questi eyeliner, quindi se come me siete delle appassionate di eyeliner e state cercando un eyeliner in penna con queste caratteristiche, assolutamente ve lo consiglio perché è ottimo, ottimo, poi è facile da applicare, è comodo perché appunto è in penna, veramente, veramente meraviglioso. Continuiamo sempre con il makeup, questa ragazzi la sto utilizzando da quando mi è stata inviata, questa è la Natural Face di Too Faced, guardate quanto è bella, è una palette, a parte esteticamente molto bella, ha un packaging anche importante perché ha un suo peso ragazzi, però veramente molto elegante, mi piace tantissimo e all'interno ha uno specchio bello grande, come vedete poi ci sono sei cialde, due sono illuminanti, due sono blush e questa è una terra, questo anche dovrebbe essere un bronzer però è un tantino satinato, mentre questa terra qui è matta, cioè io praticamente applico il fondotinta, dopodiché continuo solo con questa palette ed è comodissimo, comodissimo avere tutti i prodotti insieme, sono tutti super di qualità, guardate ad esempio l'illuminante, blush, cioè ho la terra, con la terra satinata, guardate, cioè. Altra cosa che mi piace tantissimo è il profumo di queste cialde perché proprio aprendo la palette viene fuori questa fragranza buonissima, molto delicata, ma veramente super buona secondo me, pensavo sarebbe svalinità con i vari utilizzi, invece no, si sente ancora, è veramente buona, come avete visto i colori sono molto scriventi ma non fanno chiazza perché sono facilmente sfumabili, quindi si riesce a lavorare tranquillamente. Un'altra cosa che mi piace, io posso utilizzare le cialde da sole, ma le sto anche utilizzando, mixandole, ad esempio mixo due blush, oppure mixo un blush con il bronzer per ottenere un colore diverso, oppure mixo il blush con un po' di illuminate se lo voglio ottenere un po' più luminoso, no ragazzi, veramente, veramente ottima. Ultimo prodotto makeup del quale vi parlo è questo fondotinta di Vichy Derma Blend, però quello compatto, è questo qui. Questo mi era stato inviato dal sito Amica Farmacia e davvero da quando ce l'ho sto utilizzando solo lui, allora se lo applico con la spugnetta ottengo un'ottima coprenza, però se lo applico con il pennello mi dà una bella congenita al viso, una coprenza media che comunque per le caratteristiche del mio viso a me basta, è una polvere molto sottile e soprattutto non mi fa lucidare durante l'arco della giornata. È veramente fantastico e per essere un prodotto compatto dura veramente a lungo, perché in genere i prodotti in polvere sul viso tendono a svanire un pochino prima rispetto magari ad un fondotinta liquido, quindi anche questo assolutamente promosso. Se vi può interessare perché magari pensate di avere un incarnato simile al mio, io sto utilizzando il numero 25 Nude e questo peraltro contiene anche un SPF 25 che non fa mai male. Finiti i prodotti makeup, passiamo intanto al food, quindi al cibo. Ho due cose da mostrarvi che sono entrambe due riscoperte ragazzi. Allora, da gennaio 2018 fino a praticamente un paio di settimane fa, ma io ho fatto sempre o quasi sempre, salvo rare recezioni, colazione con le fette biscottate, la marmellata, il piro yogurt e il tè. Fissa, proprio la mia fissa del mondo. Adesso sono entrata in una nuova fissa perché ho riscoperto di nuovo il porridge. Il porridge ragazzi è la vita. Ma attenzione, porridge fatto con i fiocchi di avena piccoli, questi sono anche integrali peraltro. Se vi può interessare questo lo trovo da Natura sì. Nei supermercati c'è sicuramente l'avena, non so se si riesca a trovare anche quella con i fiocchi più piccoli. Piego veramente pochissimo al mattino per prepararmi il porridge. Ebbene sì, lo preparo al mattino perché mi piace caldo, nonostante sia estate. Va bene. Per prepararlo poi non sto mettendo neanche nulla come topping. Cioè mi piace proprio il sapore del porridge. Mi piace tantissimo e lo faccio principalmente con il latte di avena. E mi piace tantissimo. Altrimenti anche avevo sperimentato con un latte che era di avena e cocco. Se non erro è anche quello era buonissimo. Altrimenti insomma il latte vegetale è quello che ho a disposizione che sia di riso, di soia eccetera eccetera. E ragazzi mi piace veramente tantissimo. E ragazzi vi dico che questo è il terzo pacco che io sto consumando nel giro di due settimane. Quindi cioè ok vi ho detto tutto proprio cioè amore puro. Questa è stata proprio una riscoperta. Ma c'è anche un'altra riscoperta nel discorso cibo. Queste. Le fave di cacao ragazzi. Le fave di cacao. Questo l'avevo preso a Milano ma credo si te lo possano trovare tranquillamente anche online. Questo è proprio cacao. Cacao allo stato puro. Senza zuccheri, senza niente. Hanno un odore di cioccolato incredibile. E questo è praticamente va tolta la pelle. Adesso non mangio altrimenti poi mi ritrovo a parlare con i denti neri. Non sarebbe molto carino. Qui si toglie semplicemente la... Come si chiama? La buccia. Questa pellicola che c'è attorno. C'è proprio... Questa è una fava di cacao. Tostata. Ragazzi è buonissima. È buonissima. Dà proprio un'esplosione di cacao. Però attenzione vi deve piacere il cioccolato fondente. Quello vero. Quindi quello un po' amaro. A me piace tantissimo. Considerate che di lint io compro quello fondente al 99%. Che cioè tutte le persone alle quali lo dico mi dico ma come fai? Ma io bevo il caffè amaro, il tè amaro senza zucchero. A me piace veramente tantissimo. Sentire proprio il sapore del cacao. Se vi piace quindi fondente vero, provatele. E ragazze non ci crederete ma quando mi viene quella voglia prepotente di cioccolato mi bastano due, tre di queste per sopperire, per placare, per soddisfare questa grande voglia di cioccolato. Cioè prendo due tre di queste e stai a posto. Perché è super, super concentrato. Quindi è... No. Ah, amore. Poi ragazze auricolari bluetooth. Da un po' in realtà che corteggiavo le... Come si chiamano? Le... Airpod? Non lo so, quelle di... Della Apple, insomma, quelle originali. Ero un pochino perplessa per il fatto che fossero proprio senza niente, insomma, soltanto questi pezzettini. E sono perplessa a riguardo perché io sono una persona estremamente disordinata, mi perdo di tutto. Quindi, non lo so, io quelle le vedevo un po' come le scarpette delle Barbie. Mi sarei ritrovata con una sola nel giro di pochissimo tempo. Quindi ragazzi, prima di spendere quei soldi, perché comunque sono abbastanza costose, ho provato a prendere queste su Amazon e funzionano benissimo. Le chiamate si sentono bene, quindi sia io sento bene, ma anche la persona che sta dall'altra parte senta assolutamente benissimo, mando le note audio. Ed è la soluzione a chi ha i modelli dal set in poi, i modelli di iPhone dal set in poi, dove c'è soltanto uno spazio, quindi non si può caricare e tenere la cuffietta al tempo stesso. Quindi questa è comodissima, ad esempio se io sono in casa, lo lascio sotto carica, visto che ormai si scaricano alla velocità della luce, lo lascio sotto carica e nel frattempo utilizzo questa. È veramente comodissima. Infilo qui praticamente, e voilà. Mani libere, non ho fili che mi intralciano. Sono rimasta veramente molto molto soddisfatta, quindi non so, se stavate cercando qualcosa del genere, queste ve le consiglio perché funzionano bene con l'iPhone. Ovviamente nel momento in cui andate ad utilizzare anche un Bluetooth, questo si scarica ancora più velocemente, questa è l'unica nota negativa, però questa è stata assolutamente un'ottima scoperta. Queste poi si ricaricano via nel cavetto all'interno della confezione, quindi veramente è stato un ottimo, un ottimo acquisto. Concludiamo quindi questo video con la serie TV. Ragazzi ho finito di vedere Like to Me ed ero rimasta malissimo perché era andata per vedere la puntata successiva, per poi rendervi conto che era finita anche quella stagione e non c'era una stagione successiva. Ero disperata perché era la mia compagnia ormai da un po' di tempo quando pranzavo. Nel tempo di una serie TV riesco a cucinarmi e mangiare e ok, ho ottimizzato i tempi in maniera eccellente proprio. Finito quello ho detto no, oddio, mi era piaciuta tantissimo, devo trovare qualcosa di bello strong, no, per farmi dimenticare adesso di Like to Me e quindi ho messo Narcos. Ragazzi, lo so, la maggior parte di voi probabilmente già l'ha visto, però io mi sono innamorata. Quindi ragazzi, io adesso sono nella fase nella quale la notte sto togliendo ore al sonno per guardare puntate di Narcos e faccio ok soltanto un'altra, soltanto un'altra, rimango con mezzo occhio aperto per vederla. Ma ancora un altro? Poi dico perché l'ho fatto? Però veramente bellissimo. Se non l'avete visto, magari eravate lì a dire, beh, lo vedo, non lo vedo. Ve lo consiglio, veramente fantastico, veramente fantastico. Almeno, sono appena all'inizio, però mi sta piacendo tantissimo. Comunque ragazzi, con questo è tutto, io spero tantissimo di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere, come al solito, nei commenti se avete già provato i prodotti che vi ho mostrato in questo video, come vi siete trovate, se volete raccontarvi quali sono le vostre scoperte del periodo. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi ricordo che trovate il link di tutto nel box informazioni. Vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!